Buonasera a tutti, abbiamo qualche domanda per le nostre giocatrici e il nostro mister. Rocco, quali obiettivi ti poni come mister e quali alla tua squadra? Allora, come abbiamo detto all'inizio anno, il nostro obiettivo è la salvezza. Stiamo giocando bene, secondo me abbiamo anche raccolto meno di quello che meritavamo perché ogni partita abbiamo tantissime occasioni e finalizziamo poco. Però penso che nel proseguo della stagione le cose andranno meglio. Quindi speriamo, però ripeto, il nostro obiettivo rimane comunque la salvezza. Poi una volta arrivati alla salvezza tutto quello che verrà è buono e ci fa piacere. Quale squadra temi di più? Sicuramente la squadra più forte del campionato, presumo sia, sono due le squadre secondo me più forti del campionato, l'Olimpo Paedone e il Fiamma Monza. Se la giocheranno loro fino in fondo, però non è un nostro problema perché noi sicuramente staremo un po' più sotto. Grazie. Grazie Rocco. Adesso al nostro capitano Veronica Sales. Vero. Quest'anno c'è stata una partenza difficile per noi, per la nostra squadra. Quali sono le tue impressioni? Beh, devo, sicuramente siamo partite un po' svantaggiate, ma come penso anche tutte le altre squadre, però abbiamo pagato di più il fatto che abbiamo avuto solo due settimane di preparazione e non tutta la squadra neanche al completo perché abbiamo iniziato subito il 4 di settembre e nel secondo tempo pagavamo questo perché eravamo affaticate, ci deconcentravamo e purtroppo prendevamo, magari è capitato anche in dieci minuti, due o tre gol di fila. Adesso da due o tre partite stiamo migliorando, nel secondo tempo stiamo tenendo e anche comunque domenica scorsa col Pieve abbiamo perso solo 1-0, ma meritavamo un pareggio anche qualcosa di più, che comunque è una buona squadra, quindi penso che adesso domenica per domenica stiamo migliorando e possiamo recuperare i punti che purtroppo abbiamo perso per strada. Grazie, è vero. Adesso il nuovo acquisto dalla Doverese, giovanissima Sara, sei il capocannoniere del Dovera, come ti trovi in questa squadra? Beh, io sono arrivata da una squadra di Lodi, dove non mi trovavo neanche tantissimo bene e mi sono stata accolta subito molto bene in questa nuova squadra e mi trovo molto bene con tutte le compagne e anche con il mister. Perfetto. Ultima domanda, quali obiettivi personali hai per questa nuova stagione? Quale, non so, come potresti aiutare il Dovera, nel bene e spero non nel male? Beh, spero di andare avanti così, comunque stiamo migliorando in tutte le parti del campo, quindi spero di continuare a far gol. Grazie. Grazie. Grazie.